Il 27 marzo 2014, oggi siamo in compagnia per le interviste di LibriTV con Elio Crifò, che è un attore che ha debuttato il 23 a Roma al Teatro Golden con uno spettacolo La classe digerente. E parliamo un po' con lui di questo spettacolo, di che cosa parla questo spettacolo e anche un po' il senso di questo nome, la classe digerente. Elio Crifò. Innanzitutto buonasera e ciao Gianni. Allora il titolo è perché vuole subito denunciare il suo legame con il cabaret. Quindi è chiaramente una battuta perché i nostri politici ormai da quando li conosciamo magnano da così tanto tempo che non puoi più neanche, ma proprio per un'evidenza di fatti, non li puoi più chiamare classe dirigente ma digerente. Quindi partendo da, come dire, quest'anima leggera, partendo anzi da Malarazza, che spiego che il successo di Malarazza si appoggia al testo di Modugno, che effettivamente è un testo censurato. E quindi anche sul testo di un successo di una canzone di Domenico Modugno gravano delle ombre. Questo è il clima che si respira nella nostra Repubblica. Cioè negli avvenimenti storici più importanti gravano sempre delle ombre. Mentre i politici sono molto diplomatici o evasivi, molto equilibrati nel loro modo di esternare le opinioni politiche, invece nell'ombra sono molto decisi, sicuri, violenti, rapidi e chirurgici. Questo contrasto che un cittadino del terzo millennio non può più pensare di vivere nella distrazione, a un certo punto si deve svegliare e prendere consapevolezza di quanto si è alzato il livello criminale, di quanto si è infiltrato. E non sono solo io, ma ci sono tanti studiosi, giornalisti, scrittori, artisti, che ormai è acclarato che gli Stati sono gestiti ormai a dei livelli più importanti direttamente da reti illegali internazionali, che certamente si servono di facce presentabili e di volti presentabili, a volte ce la fanno, altre volte invece rinunciano anche a quello ed è palesemente un, sono volti da criminali per una politica criminale. Io leggo un po' in giro anche qualche recensione che insomma tu hai utilizzato questo metodo che non è appunto il solito, insomma quello che si trova frequentemente anche nelle tv per parlare di politica diciamo caricaturistico, limitazione e così via, utilizzi la parola un po' per narrare dei fatti e parli appunto anche di fatti precisi che hanno diciamo, sono state proprio delle tappe della Repubblica più o meno buie che hanno un pochino... e poi parli anche di alcune persone e fai anche dei nomi. Ecco insomma come ti è venuto in mente, come hai selezionato fatti e persone? Allora, ho cercato di capire come si accendono i riflettori sulle notizie e se ne parla tantissimo e come ogni luce troppo accecante, cioè troppo violenta acceca e quindi ho visto che la iper attenzione dei mezzi di comunicazione serve per accecare la notizia. Tu non la capisci più perché è troppo complicata, troppo complessa e nessuno alla fine ha un'idea chiara. Per esempio, di fatti importantissimi, ma che tutti dovremmo avere una chiarezza cristallina che è quello per esempio di Snowden o di Assange o di rifiuti tossici, comprenderne esattamente le tappe della evoluzione criminale e capire che l'evoluzione criminale non è esterno ma è assolutamente all'interno, cioè nasce dalle istituzioni e muore nelle istituzioni il percorso criminale di queste vicende. Per cui, analizzandone parecchie nel corso della prima parte dello spettacolo, a un certo punto giungo a metà a dire abbiamo capito che il livello criminale dello Stato è più criminale di quello che viene chiamato il mondo criminale, cioè lo Stato è più selvaggio e più violento del mondo criminale. Quindi faccio un appello d'aiuto ai criminali e soprattutto a Matteo Messina Denaro che è il capo dei capi, l'ultimo dei padrini reali, è l'ultimo uomo mitico anche perché c'è una stupidità voluta dei mezzi di comunicazione di dare l'immagine di Totorina e di Bernardo Provenzano come i capi di movimenti che hanno una complessità che è evidente che non potrebbero mai gestirla. È come le immagini fornite di Totorina quando parlava in carcere con quell'altro boss della Sacra Corona Unita di cui parlava. È evidente proprio da un punto di vista tecnico-attoriale che è Fasullo, che stanno recitando, che Irina sta recitando ed è chiaro che se avesse detto qualcosa di importante non sarebbe mai andato nei mezzi di comunicazione di quel genere. Quindi è un viaggio partendo da un punto di vista, cioè con un tono molto leggero per entrare con la risata, con il divertimento alla denuncia, al paradosso fino a parlare delle slot machine e capire perfettamente di chi erano queste società, perché hanno truffato, in che modo, perché gli sono stati condonati 97 miliardi e 500 milioni di euro dal governo Letta e perché Letta è tornato contento dal Qatar con 500 milioni di euro. Cioè allora dovrebbe essere, dovrebbe essere depresso quando ha condonato 97 miliardi e 500, se no sarebbe pazzo da tornarne contento con solo i 500. E quindi è chiaro che da cittadino devi ragionare, devi capire che sotto tutta questa informazione che è spesso, come dire, apparentemente limpida, non si pongono mai le domande fondamentali che inchiodano la responsabilità di chi commette quei reati. Per esempio il caso Marrazzo è stato ridicolo. Io l'ho vissuto casualmente, cioè nel senso perché mi ero trasferito vicino e quindi io nel giro di due ore alle nove e mezza già sapevo perfettamente tutta una serie di fatti da persona che non li voleva sapere, ma solo perché era nel vicinato e ho dovuto assistere per 15 giorni, 20 giorni a un depistamento, ma proprio in un modo evidente dei mezzi di comunicazione perché bastava che girassero l'angolo e andassero a chiedere quelle informazioni ad altri trans, ad altre persone del vicinato e avrebbero ottenuto la verità molto velocemente quella mattina stesso. Interrompo un attimo e dico, no no no, scusami no, perché ci mancherebbe, no ti volevo trattato di interrompere perché è una combinazione di tempi, in questo momento su Radio Radicale sta andando uno speciale giustizia sul caso Marrazzo, con l'ottima introduzione come sempre di Massimo Bordini, l'ho sentito prima di venire proprio sul caso Marrazzo. Questo mi fa piacere, c'è una sintonia. Comunque poi il fatto è che ho scritto questo spettacolo, innanzitutto non per dire quanto sono bravo o quanto sono bello, perché l'artista lo scrive per il pubblico, perché hai voglia di comunicare qualche cosa che è importante per tutti noi, quindi è uno spettacolo politico, di teatro civile, perché di informazione, di cabaret, perché vuole usare questi toni e vuole soprattutto parlare a tutti. Infatti alla prima c'era per esempio il giudice Almerighi, col quale è nato un bel rapporto, perché poi ci siamo confrontati, c'era Pingitore, ma c'erano dei ragazzetti molto, come dire, di periferia che sono venuti a vederlo, la borghesia, quelli che hanno i frequentatori del Lions Club, eccetera. Quindi era il pubblico misto, cioè la popolazione, perché la ghettizzazione anche della comunicazione è assurda. Il Rai vige la dittatura della casalinga, cioè se tu non riesci a farti capire dalla casalinga non puoi andare in televisione, chiaro? Quindi è come se la casalinga di Voghera fosse una, cioè questo è femminicidio, reale, cioè se dobbiamo parlare di femminicidio, voglio dire che è assurdo anche fare una, secondo me, una differenza tra femminicidio, come se ci fosse il cuochicidio. Dobbiamo uscire fuori dalle ghettizzazioni di pensiero, anche secondo me su quelle della parola. Comunque, scusate se divago, e comunque voglio dire che questo spettacolo poi finisce con una cosa particolare, che è un monologo di scuse, di scuse che io ho scritto augurandomi che un giorno un uomo dell'istituzione, dove essere poi il Presidente della Repubblica, capisca che per recuperare la, come dire, un minimo di rapporto tra politici e popolazione c'è una frattura ormai insanabile, ma proprio di fiducia, ma non perché il popolo chissà che cosa ha vissuto, è perché è quello che la classe dirigente, questa volta volevo dire, ha seminato in 70 anni, perché ha seminato morti, ha seminato martiri, ha seminato reati, ha seminato corruzioni, ha seminato povertà, ha seminato ingiustizia. Non ha seminato tanto, cioè ha seminato troppo di questo, perché chiaramente ha anche seminato altro, ma è questo è quello che è ancora brucia, brucia al popolo, e il popolo vorrebbe anche un gesto di maturità da parte della politica, di dire basta coprirsi con comunicati stampa, con volti imbarazzati, con risposte imbarazzanti, ma finalmente parlare e assumersi la responsabilità e chiederci scusa da portella della ginestra fino a oggi di innumerevoli reati e di innumerevoli assassini e di innumerevoli tradimenti. Quando io prendo e mi scuso al posto dello Stato, il pubblico chiaramente ha un'emozione che non riesce a fermare, perché si va minuto su minuto e si elenca, a volte anche si chiama personalmente in causa, come chiamo le famiglie criminali per nome in causa nello spettacolo, lo chiamo anche le vittime per nome in causa nello spettacolo e personalmente io mi assumo la responsabilità da politico di chiedergli scusa e basta cedarsi dietro segreti di Stato, insabbiamenti o mezze verità che non si sa, ma si sa che è stato lo Stato. Se non si va oltre questa maturità non si riuscirà mai a creare uno Stato e non è possibile che degli autori di Stato scrivano al presidente napolitano un discorso come l'ultimo di Capodanno, dove ha un certo, oltre che era stantivo, ma il problema che non ti puoi più rivolgere nel 2014 a chi ti ha scritto, per esempio non mi ricordo se era Mario, e ha cominciato a parlare di Mario, ci ha scritto, eccetera, eccetera, perché Mario avrà scritto al presidente della Repubblica, su eccellenze, eccetera, 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 non gli avrà scritto Giorgino, ti saluto. E quindi noi, non ti puoi rivolgere come ti rivolgi, che ne so, a uno delle... Vi presento il cuoco Mario che ha cucinato tutto quanto per noi, al sovrano di questo regno, di questa Repubblica, innanzitutto, al Signor, cioè anche questo presentarsi da Mario. Noi dobbiamo anche cominciare a capire che questo Stato è nostro e i diritti li abbiamo concessi alla classe dirigente. Elio, ovviamente, da queste due parole, ovviamente che ripercorrono lo spettacolo, oltre che abbiente la pressione per il teatro, c'è in qualche modo anche, traspare un certo interesse per la politica, per la storia d'Italia, insomma, proprio per quanto riguarda i vari trascorsi di questa classe di gerente e dirigente. Ecco, che sta, diciamo, interesse per la politica ce l'è sempre avuto? Sì, c'è la passione per la politica, ma nel senso più ampio, perché ho frequentato chiaramente vari partiti, perché dovevi crescere, volevi capire, e quindi poi con questa mia formazione di vari partiti che ho frequentato da ragazzo, mi sono reso conto che alla fine il partito era un brand, un marchio, dove ci facevi parte e basta, era una squadra all'interno della quale tu entravi, non c'era nessuna critica reale politica. E questo è un elemento molto teatrale. Poi mi sono appassionato chiaramente alla storia e poi sono tutte materie che si intrecciano, storia, politica, geografia, teatro, arte, pittura, perché è tutto connesso. E mi sono ritrovato in un'epoca in cui da ragazzo non sapere le cose era una vergogna, quindi se volevi cominciare a lavorare, a essere considerato, dovevi sapere qualche cosa, cioè dovevi essere colto, ti dovevi preparare. Quando ho cominciato a prepararmi, quindi sono entrato all'accademia, facevo l'università, eccetera, ho continuato a studiare, invece è successo che nella società non contava più sapere, soprattutto nel mondo dello spettacolo, capito? Quindi è diventato che facce ride, facce piagne, e alla fine il teatro è diventato l'asse povero, dove se tu vuoi sopravvivere non ce la fai. Quindi devi andare in televisione, in televisione si fa, come dire, Oreste Lionello diceva che c'era la defecazione artistica, cioè tutto ciò che tu fai a teatro, allora spesso hai la libertà di farne un concetto anche artistico, comunque bello, in televisione è proibito, perché c'è la dittatura della casalinga di Bocchera che ti deve capire quella, ed è sempre scema, c'è la dittatura soprattutto di non fare creatività. Invece, secondo me, il mercato oggi chiede creatività, questo è uno spettacolo di creatività perché sono da solo in scena, non ho niente, ho solo luci, uno sgabbello, e il testo l'ho scritto io, ed è una risposta artistica ad un mondo dove ormai di creatività sembra non avercene più, oppure poca, perché noi artisti dobbiamo rispondere alla violenza e alla volgarità della televisione, ma non della televisione in quanto mezzo in sé, ma chi la gestisce e chi la fa in questo modo, chiaramente, dobbiamo rispondere con prodotti di eccellenza o provarci, non con stantia, ancora riferimenti, con lo studio su Ophelia, perché non ci seguono più. Oggi noi, che abbiamo anche una formazione classica, dobbiamo assolutamente stare nel tempo e parlare all'uomo del tempo, con argomenti del tempo, con la nostra formazione, che ci deve essere di aiuto per comunicare. Io ho fatto un tentativo di unire la mia passione politica, storica, con la mia arte di attore e la mia conoscenza registrica e autoriale, e ho cercato di fare un prodotto alternativo alla TV, alla cultura del supermercato e a tutto questo mondo che sta mangiando noi. Noi siamo spariti come categoria. O esistono le star che se ne fregano. Se ne fregano se tu lavori, non lavori, se hai diritti, non hai diritti, non hanno combattuto neanche quando ci hanno tolto la disoccupazione, a requisiti ridotti. Sono stati vergognosi tutte le nostre star del nostro mondo, dello spettacolo. Ma quando hanno tagliato i fondi FUS, ci hanno voluto che stavamo con loro a protestargli accanto. E queste sono le nostre star, le star del teatro, le star del cinema, le star della TV. Se ne fregano perché tanto loro lavorano. Gli altri possono morire di fame. Tanto tu non hai importanza, sei uno che lavora per me al massimo. Punto. E questo non è un discorso dello spettacolo, è un discorso generale della società, ed è un discorso politico. Quindi parlo di politica, ma parlo dei problemi, di tutti i giorni, di tutti noi. E capire che i problemi di Snowden e Assange sono i problemi che si riversano nel nostro piccolo mondo quotidiano. Perfetto. Ma è una considerazione abbastanza amare, che un pochino anche parla un attore accennato al mondo, a questo mondo del lavoro, dello spettacolo, una scarsa in qualche modo sensibilità e forse anche solidarietà come categoria. Senti Elio, a questo punto una considerazione un po' su, essendo appunto il teatro qualcosa di vivo, con il contatto con il pubblico e diretto, diciamo che impressione hai fatto, il pubblico come lo hai visto, reattivo, e in quali momenti è stato in qualche modo più attento, più entusiasta, perché insomma parli di cose molto varie, e poi anche lo spettacolo si articola appunto in varie parti, dove che è più... e poi soprattutto in chiusura, insomma, è stato soddisfatto. Guarda, è un viaggio, siccome sono da solo e senza niente, inizio ed è un tuffo in una piscina insieme al pubblico e so che all'inizio andiamo e ridiamo, abbiamo una mezz'ora dove parliamo di tutta una serie di tematiche, ma si ride parecchio, molto, eccetera, eccetera. Fino a quando poi si arriva alla provocazione di rivolgersi alla criminalità e a Matteo Messina Denaro. Da lì, siccome entro in più nello specifico in trattative tra Stato e mafia, che esistono da quando è nato lo Stato, non che delle 93 sono da sempre esistite, in affari, in nomi, quindi entro più nello specifico, si ride di meno e nasce una tensione perché si capisce quanto effettivamente i cosiddetti criminali lavorano spalla a spalla con politici, servizi segreti, uomini dell'ordine, è tutto un livello dove si lavora insieme. E Matteo Messina Denaro rappresenta, ecco, lui sì che è il criminale del terzo millennio, un uomo intelligente, un uomo che si è evoluto, un uomo che non si è staccato dal territorio, ma viaggia in tutto il mondo. È un mafioso al quale mi riferisco perché può veramente comprendere questo tipo di appello provocatorio, che poi faccio soprattutto provocatorio nei confronti chiaramente di questa classe al potere. è anche provocatorio dalla parte dei criminali perché ci sono altre criminalità che si sono evoluti in altro modo. Qui il patto tra criminalità e Stato è un patto che non funziona più né per la popolazione perché noi stiamo morendo e moriremo sempre di più nel prossimo futuro. Estrangolerà gli stessi criminali. Per assurdo ci sono state, ci sono delle lamentele del mondo criminale dove siccome per esempio se io sono un mafioso ottengo chiaramente da mafioso un appalto qui a Roma per ristrutturare per 3 milioni di euro un determinato, una strada, una cosa. La ottengo perché sono mafioso, ma la ottengo in mafioso ma perché si sa che io darò il 30% al mio referente di Stato che mi ha fatto ottenere perché il mafioso può ottenere gli appalti solo se ha i referenti di Stato e nello Stato e per lo Stato che si prendono di norma il 30% in tutto il territorio nazionale. Quindi se io prendessi un milione di euro da mafioso me ne arrivano 700 mila. Chiaro? Però poi io devo presentare un bilancio falso perché devo dire che ne ho presi un milione. Devo pagare le tasse su un milione di euro e invece lo Stato già me ne ha fregati 300 mila prima, capito? Devo mettere in bilancio spese che non ho fatto perché quei 300 mila non mi sono mai arrivati. Sono ricattabile da parte dello Stato perché tu sai che sto lavorando per te con un'azienda che sta lavorando in modo illegale. Quindi io sono alla mercè dello Stato perché lavoro per lui in modo illegale e lui lo sa. È il più pago. doppie tasse allo Stato. E in più gli dobbiamo sputare in faccia perché non fanno i lavori con materiali scadenti senza pagare le note eccetera eccetera eccetera. È chiaro? Se voglio dire non è neanche... cioè non lo può neanche fare assurdamente. Cioè è questo paradosso reale che esiste chiaramente io lo inserisco nello spettacolo e il mio spettacolo è un paradosso è un urlo intellettuale e viscerale ma fuori da ogni retorica commemorativa fuori dalla retorica di Stato volemmo se bene siamo una grande nazione siamo italiani non c'è niente c'è da guardarsi con maturità per andare avanti dirsi la verità su ciò che è successo su ciò che succede per poter affrontare domani un futuro migliore questo è il discorso politico che c'è dentro poi alla fine risulta uno spettacolo di riflessione e di rivolta. Perfetto. Io prima di dare gli appuntamenti diciamo e dire le varie tappe e le date e i luoghi ovviamente volevo chiederti a questo punto visto che abbiamo la presunzione di aver parlato questa sera con te non solo di teatro ma anche di politica un tuo diciamo sguardo al futuro dell'Italia politico pensi che ci sia una speranza che ci sia qualcuno dice che c'è un qualcosa un vento di cambiamento qualcuno dice che è tutta una cosa finta che è tutta una facciata che insomma ecco tu che uglioni ti sei fatto? alcuni dicono che Renzi che se Renzi non passa cioè non non riuscirà a rimanere al governo allora è veramente finita io vorrei capire perché per esempio si dice così e questa e questa cosa non fa non ti fa stare tranquillo probabilmente ci sono il grande potere della massoneria in Italia che è quello che governa però ha fatto ha dato troppo hanno vinto delle logge troppo violente troppo volgari troppo incapace di mantenere il potere in equilibrio con la civiltà e sono discorsi che poi alla fine noi popolo dobbiamo cominciare a conoscere realmente le proprietà delle televisioni delle pubblicità dei giornali delle grandi società e dobbiamo capire che attraverso questo tipo di conoscenza possiamo comprendere meglio ciò che avviene in politica perché se già cominciamo a vedere la televisione come un grande contenitore di spot interrotto dalle trasmissioni capiamo che la pubblicità possiede le televisioni e sono loro che infatti tu non puoi mandare oltre e quindi chi ha la proprietà delle televisioni e e là c'è chi fa politica sul serio e quindi io ho paura che dicono questa cosa di Renzi perché Renzi rappresenta l'ultimo baluardo di evidente di un'economia italiana che dovrebbe resistere a governare questo paese e forse gli altri se arrivano sono quegli una economia ancora più americana visto che oggi abbiamo avuto l'invasione di Obama in pratica e vedo una Italia troppo prone serva di questa America di un'America brutta di un'America che non ha niente di democratico un'America che è selvaggia che nasconde sotto i sorrisi una ferocia terribile la ferocia dei campi di detenzione la ferocia della guerra vedo una Cina che è terribilmente selvaggia e nessuno gli dice niente perché sono potenti ricchi e stanno devastando il pianeta c'è un mare verde che fa impressione e si continua a stare zitti come se chissà chi dovrebbe risolvere queste cose io no penso che sto cominciando a salire e a combattere per me per mia figlia perché in un modo intelligente mi rendo conto che non posso più essere distratto come ero prima e cerco di farlo capire agli altri ma non perché io sono presuntuoso io sono arrivato a questo punto cerchiamo di camminare insieme cerchiamo di risolvere qualche cosa perché così non andiamo da nessuna parte noi abbiamo il potere di poter bloccare questo sistema con duemila camionisti blocchi l'Italia e ottieni ciò che vuoi per esempio bisognerebbe spiegarglielo e organizzarlo a questo punto diamo le date e gli appuntamenti del tuo spettacolo dove e quando ancora a Roma abbiamo il 6 aprile del 27 aprile al teatro Golden poi d'estate lo stiamo iniziando a vendere partirà probabilmente da dove è nato questo spettacolo perché il finale è nato a Capo d'Orlando che l'avevo inserito in uno Shakespeare e ripartirà da Capo d'Orlando e ripartirà dalla Sicilia poi prossima stagione dovrebbe essere a Pomezia Aprilia Palestrina cominciare e vedere poi lo stiamo vendendo e sarà il pubblico se ci sarà successo di pubblico potrò dire ok compratelo fatemi vivere se no sarà complicato grazie e le prefoti e essere stato con noi su Libri di Fum grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti